buonasera i nostri amici di cronaca e gubina ci troviamo qui alla galleria lucarelli per l'inaugurazione della mostra fotografica il cuore vario pinto d'italia conosciamo oggi una fotografa sicuramente comunque sia che rimarrà impressa nella mente di molti ogubini la chiameremo per maggiore facilità margherita margherita la tua mostra è una mostra comunque sia molto importante e che è fatta grazie al al comune di gubbio dove qui abbiamo il professore augusto ancillotti la nostra associazione culturale la medusa e gode senza dubbio di due patrocini molto importanti il primo fra tutti è il patrocino della città di norcia sappiamo che norcia purtroppo come castelluccio comunque si è stata gravemente colpita dal terremoto e quindi per noi è motivo di orgoglio avere appunto il patrocino di un ente così importante tutte quante le foto quelle che poi voi troverete esposte all'interno della galleria sono in vendita e hanno diciamo un nobile scopo infatti il 50 per cento di tutto quanto il ricavato sarà dato appunto alla città di castelluccio per la ricostruzione margherita allora ti chiedo intanto il perché di questa scelta gubbio e castelluccio e due posti che sono innamorata è la prima volta che sono venuta a gubbio c'era 2004 proprio dopo perugia seconda città di umbria che ho visitato e poi a castelluccio la mia prima più lunga visita in umbria proprio ho fatto posto da dove andavo in giro per diversi borghi umbri e poi castelluccio è davvero è anche come gubbio molto pittoresco e per un fotografo posto straordinario bello castelluccio sicuramente un posto che rimane nel cuore senza dubbio questa mostra come dicevamo anche il patrocino dell'istituto italiano e di cracovia è una mostra che sarà itinerante o rimarrà comunque sia qui soltanto comunque sia in italia verrà poi esposta anche a cracovia sarà esposta proprio dopo anche a cracovia proprio preso galleria dell'istituto italiano di cultura di cracovia e alla fine di giugno questo anno allora invito a venire tutti voi a cracovia e visitare la mia mostra sarà proprio nel cuore di cracovia vecchia grazie mille passo adesso la parola invece al professor augusto ancillotti prima cosa la ringrazio comunque sia a nome di tutto quanto quello che è la nostra associazione quando il mese di febbraio siamo stati contattati ecco ci siamo messi un po al lavoro abbiamo subito comunque sia dato un parevole più che favorevole comunque sia all'iniziativa sapendo poi diciamo quello che era lo scopo in più volevo appunto una sua battuta appunto a proposito di a mia volta vi ringrazio ringrazio alla medusa perché senza di voi avremmo avuto difficoltà enormi a poter realizzare questa bellissima mostra perché la dottoressa chistrin è sola non può da sola affrontare tutto l'impegno che richiede una mostra e quindi voi l'avete potuta realizzare e solo questo è un motivo basterebbe questo per essere un motivo di grande riconoscenza da parte della nostra amministrazione siamo anche riconoscenti alla dottoressa margherita chistrin che un bel giorno della sua vita smise di fare la fisica nucleare decidendo che si vive bene all'università ma si vive ancora meglio usando la macchina fotografica per fissare emozioni immagini colori e situazioni che veramente appartengono a tutto un mondo emotivo emozionale quello che io chiamo volentieri dionisia piuttosto che quello apollineo dal quale proveniva la dottoressa perché fare fisico nucleare vuol dire aver fatto una scelta tipicamente apollineo non razionale e qui c'è di fatti come dire c'è tutta una storia nascosta io credo non che io la conosca ma intuisco che c'è tutta una storia e che come dire gli scatti che noi possiamo ammirare in qualche modo ci fanno capire che cosa deve essere successo nell'animo della nostra amica margherita cioè qualche cosa che non poteva essere più trattenuto che era necessario esprimere far uscire a guidare spazio e noi siamo orgogliosi di essere stati contattati e non è stato difficile dopo che vedi per la prima volta gli scatti del presso chiesto non è stato difficile decidere che era il caso di fare la mostra e quindi contattare voi eccetera assolutamente grazie mille ringrazio i nostri amici di cronaca gubina ringrazio di nuovo il professore augusto ancillotti la nostra margherita e invito tutti quanti io gubina a vederla visitare la mostra perché no a scoprirsi in una delle foto di margherita grazie